Ora, senatore Ripamonti, prego. Grazie, grazie signora Presidente, questo ritorno alla normalità graduale è importante, anche se ancora oggi io parlo con la mascherina, speriamo, insomma ci siamo quasi, dai, bisogna aver capito che ci siamo quasi. Vedrà che manca veramente poco. Ho fiducia, ho fiducia, sono fiducioso. Sì, il collega Collina ha fatto una giusta descrizione, diciamo, di quello che è stato litera oggi del, di questo provvedimento che oggi va in aula. Io inizio invece con i ringraziamenti, i ringraziamenti sinceri, sentiti, innanzitutto per il Governo, nelle persone, diciamo, in modo rappresentativo, diciamo, di tutta la parte del Governo che non ha magari partecipato attivamente, quindi del Ministro D'Inca, e soprattutto al Vice Ministro Picchetto Frattin, al Sottosegretario Bini, che in questi mesi hanno, diciamo, affiancandosi poi nel tempo uno con l'altro, dato un grande impulso a quello che è stato un lavoro importante, un lavoro forse sottovalutato di quello che questo Parlamento, di questa maggioranza ha fatto per un provvedimento che qualcuno ha definito forse il più importante provvedimento di tutta la legislatura. Non va dimenticato quanto è importante questo disegno di legge per il proseguo del nostro percorso al PNRR. Mi sia consentito di ringraziare anche il mio capogruppo, Massimilio Romeo, per la fiducia che ha voluto darmi nel farmi seguire questo provvedimento all'interno della mia Commissione. Al Presidente Girotto, all'equilibrio che ha sempre dimostrato in questi mesi non facili, cercando, come posso dire, di trovare quel percorso che coniugasse due forze politiche un pochino distanti, come la Lega, come il PD in rappresentanza dei relatori, ma anche all'interno di tutte le forze maggiori. L'ha sempre fatto con grande equilibrio, quindi io ti ringrazio, Presidente. Il mio capogruppo in Commissione, Roberto Marti, che dal mio punto di vista mi è stato enormemente utile, e a tutti i colleghi della Decima Commissione, che insieme ai colleghi della Camera, che sono intervenuti di volta in volta, a secondo dell'articolo di cui si stava parlando, hanno mostrato un grande senso di responsabilità, non sottraendosi mai, e poi mai, al lavoro della Commissione. Un grandissimo ringraziamento, lo voglio fare anche la dottoressa Di Cesare, senza la quale era complicato, onestamente, venire fuori da questo meccanismo, forse un po' nuovo anche, o almeno per me lo è sicuramente, di un provvedimento fatto, non so, a due mila mani, comprese quelle tra Camera e Senato, in realtà. Quindi la ringrazio davvero di cuore. E un ultimo ringraziamento, per poi passare a qualche considerazione, la faccio al mio correlatore, perché alla fine abbiamo dimostrato che qualche volta si può anche essere distanti dal punto di vista dell'equilibrio della politica, ma lo si può essere molto più vicini quando la sostanza la fa da padrone. Quindi grazie Stefano per il grande lavoro e grazie a tutti i capigruppo major, perché poi alla fine vedo Loredana, vedo Simona, la senatrice Castellone, Davide Faraone, e alla fine ci hanno ricondotto, quando il momento era da farlo, alla concretezza. Dicevo, questo disegno di legge è fondamentale del PNRR, l'ha ricordato molto bene Stefano, e nella relazione che noi consegneremo a questo Parlamento viene molto ben descritto quanto sia importante e di quanto lavoro sia stato fatto. Una mola di lavoro enorme, fatta insieme alla Camera, come si diceva, e vi assicuro che non è stato semplicissimo, perché poi non sempre le posizioni sono di posizioni politiche, ma a volte sono posizioni proprio differenti, anche all'interno dello stesso gruppo politico. Parlo per il mio, non parlo per gli altri, per evitare polemiche, ovviamente. Credo ci sia stata una narrazione non coerente, o meglio, negli ultimi tempi forse è uscito un messaggio non così coerente con quello che era il vero lavoro di tutto il Parlamento, di tutto il Senato e della Camera, ma è soprattutto non coerente con quello che è stato lo sforzo dei due relatori e dei rappresentanti del Governo che si sono molto applicati a questo provvedimento. Forse riconducendolo alla fine sull'unico tema che è stato un po' il tema degli ultimi giorni, quello dei balneari, quando invece all'interno di questo disegno di legge esiste un mondo che è stato messo a regime, un mondo che è stato messo nelle condizioni, mondo Italia, di ottenere quei fondi necessari e vincolanti nei contratti che ci siamo presi nei confronti all'Europa e viva Dio, per una volta i contratti li facciamo e anche li rispettiamo. Quindi ci sono dei punti che abbiamo risolto importanti, l'idroelettrico, la parte legata alla portualità, la parte legata alla derivazione del gas, la parte legata ai linaos, anche cambiando un po' quello che era forse un approccio sbagliato rispetto a un grande tema come quello dell'inaos, a grande capacità dei territori di trovare un sistema tra di loro. Quindi abbiamo cercato di tutelarlo pur rimanendo all'interno del perimetro della concorrenza che tanto ci veniva richiamato. Non la faccio troppo lunga perché poi alla fine la discussione generale comporterà molti interventi e non voglio togliere ai colleghi che interverranno la forza e la voglia di rivendicare anche all'interno di questo disegno di legge delle appartenenze. Per cui mi limito a dire bravi tutti e credo che questa sia stata una dimostrazione importante di come si può lavorare e si può lavorare bene riservandomi, perché se no non sarei io, per la replica qualche sassolino da togliere. Grazie. Grazie.